Il Festival è un'occasione importante per Gaeta, grande ricettività, come diceva lei, una grande organizzazione che ruota attorno alla città. Un'organizzazione che dà speranza, dà entusiasmo a tutta la città di Gaeta, ma soprattutto a tutto il Golfo di Gaeta. Sicuramente il Roadmap Festival in sette anni si è distinto per la capacità di essere sopravvissuta a una crisi che ha imploso tanti comparti e tanti settori. In questo momento bisogna puntare sull'economia del mare che credo sia l'unico volano di sviluppo, sia in termini economici che occupazionali. Noi ci crediamo, stiamo mettendo in campo tutta una serie di risorse insieme alla Camera di Commercio e agli altri enti per far sì che ci sia un vero sviluppo, ma non solo della città di Gaeta, ma di tutto il Golfo di Gaeta. Il Presidente Zotto la parlava anche dei cantieri, Gaeta è simbolo sicuramente dell'economia del mare, ma ci sono anche dei problemi importanti, immagino l'Italcraft, insomma nella cantieristica. Come si può lavorare anche per questo? Assolutamente, sono problematiche che non abbiamo sottovalutato, ma stiamo lavorando in stessa sinergia con i sindacati e anche con la Regione Lazio per mettere su dei progetti che permettano il recupero del cantiere simbolo della città di Gaeta che è quello dell'Italcraft. Grazie mille, buon lavoro.